c'è qualcuno che oggi è allegro, è arrivato il formaggio, è arrivato il formaggio anche tanto mannaggia adesso mangiarlo tutto voglia, è arrivato anche un pacco, c'è dentro il formaggio? no allora guarda, è un pacco grande con dentro tanti pacchetti, sei pronta? si prontissima, nel frattempo qui c'è su il bollito, guarda ce n'è uno giallo ah grazie, grazie, uno rosso, poi c'è questo che è lo stesso giallo ma che bello, ma che bello, ma che bello, se pioveva portava l'ombrello qua c'è un sacchettino bianco qua c'è questo quanti? quant'è che ha messo lì? oh e che verso era? oh quanti? un libro che bello, brava legge meglio di di Auschwitz ah questo è un libro sui campi di concentramento si, ecco si, bisogna leggerlo, brava, grazie, grazie, brava brava ecco bravo, la leggiamo la leggiamo, bravo, bravo è una storia vera si, si, sono sicuro che è una storia vera eccolo qua, grazie, mettiamolo qua mettiamolo qua la sveglia, meno male, meno male, grazie, grazie, ma guarda, mi serviva proprio, ma guarda che bello, e suona, ma grazie, ma che bel regalo ma sono contenta, sono contenta, sono contenta, sono felice, sono felice, ma che bello, proprio come quella che volevo io, grazie, 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 grazie due regali, grazie, ma che bello, ma grazie, ma grazie, ma grazie, ma grazie, piano, 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 aspetta, eh, due regali che si tenevo, ma guarda, ma guarda, ma mi leggono nel pensiero sta gente, mi leggono nel pensiero ma quanti pacchetti, ma cosa ha fatto questa grande donna, oh, no, questa grande donna, ma guarda, ma che bello, questo qui, cos'è, è un, mi sembro di sapere che cos'è questo è come un Buddha, è un Buddha, e ti puoi mettere dentro quello che vuoi, adesso possiamo scegliere cosa mettere dentro, eh sì, ma guarda che bello, grazie, grazie, una candela, puoi metterci quello che ti torna più comodo quello che mi torna più comodo, prendiamo questo mettiamo questo mamma mia, ma quante cose, ma quante cose una tovaglia, una tovaglia, grazie, grazie, una tovaglia, ma brava, dopo la diciamo, è gialla con le greche, occhio, ci saranno tutte le cose di fare colazione, ma che bella, senz'altro, senz'altro è bella, senz'altro, ma è bellissima, senz'altro, dopo la guardiamo bene, ma grazie, grazie, una cosa più bella dell'altra, una cosa più, questa è azzurra, che cos'è azzurra, è per te? è sul bigliettino, per Davide, è per Davide questa, questa qui è per Davide, ah io l'apro, io l'apro, io l'apro, io l'apro, è per Davide, aspetta che ho paura che mi faccio cadere queste, occhio alla sveglia che poi non sveglia più, no, guai, la sveglia che mi serve, guarda che bella, ecco, guarda, è anche, è una felpa? sì, è una felpa col cappuccio, guarda, è quel colore, eh sì, ma guarda che bella, grazie, 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 per il mio Davide, per il mio Davide, bravo, 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 ma la festa, arrivano dei bei regali, adesso cosa c'è, ma quanti regali, ma quanti regali, ma quanti regali, piano, 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 il bollito fa un rumore, abbassa il fuoco, sì, abbassalo, abbassalo, appendino, guarda che bello, mi servivano questi appendini, ho detto, comprameli, comprameli, invece guarda, due, ma guarda, grazie, 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 ma grazie, ma questa donna mi legge nel pensiero, eh, oh, questo è per gli straccetti, eh, è per gli stracci, sì, sì, lo so, lo so, è per, quello cos'è, un basetto con una pianta, no, ma forse sono, sono, vabbè, di plastica, ma che bello, meno così non li bagnociolo sempre, grazie, 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 ma guarda, questi qui, mi servivano proprio, che il papà non mi li aggiustava, ma guarda, ma che belli, ma che belli sono, grazie, grazie, se dobbiamo decidere dove appenderli, eh, là li appendiamo, eh, sei già, brava, eh, piano, 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 è il formaggio, è che è arrivato il formaggio, ma guarda, allora mangio il formaggio per 15 giorni, grazie, 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 oggi non c'era formaggio ma guarda che brava ma che brava guarda che bel formaggio grazie 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 dobbiamo quello ma quanti pacchettini abbiamo ma com'è bello com'è bello com'è bello che io ho sempre freddo la testa ma guarda eh sì perché ieri siamo andati in gita non avevi il cappello non c'avevo il cappello guarda come sta bene guarda come sta bene grazie 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 ma è l'orologio che mi serve proprio davvero grazie per dire la verità è tutto è tutto bello è tutto bello perché qui fa caldo grazie è stato bene perché fa caldo settimana prossima abbiamo preso appuntamento parrucchiere andiamo a tagliare un po' i capelli di nera no perché cadono anche mi cadono anche eh sì andiamo assieme che cosa c'è qui che bella scatoletta per mettere il caffè per mettere il caffè grazie 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 questo è pesante questo qui c'è dentro senz'altro mi spiace aprirla ma bisogna aprirla se no che gusto c'è senza altro devi spingere da un lato c'è sulla scotch bollito borbò e spegnelo un attimo spegnelo spegnelo che tanto ha visto c'è un fiore davanti se trovo il co se trovo il mamma mia mettono mettono uno scotch che non si va via più puoi chiedere l'aiuto del davide eh sì forse sì c'è un nuovo pulsante se tu chiedi l'aiuto prima che ti tagli ora ti sei ha bisogno guarda dai oh questi sono proprio quelli che mi piacciono a me bravo 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 veramente sono quelli che piacciono a me grazie sono quelli morbidi sono questi ma sono tutti buoni tutti 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 vuoi uno ma sono buonissimi sono buonissimi ma che bello grazie biscottini e formaggio con i biscottini mi viene in mente quella volta che avevamo le tazze che si riempivano che cambiavano il colore e usciva fuori la fotografia con l'acqua calda si ma guarda che mi ha fatto tanti di quei regali tutti i corsori e belli tutto molto bello tutte cose che poi il libro che senz'altro lo leggo mettilo qui ringraziamo allora il formaggio il caffè la sciarpa la cuffia e la tovaglia la mia felpa e gli appendini gli appendini ma quante cose ho fatto tante grazie 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 io non so come ringraziarti ti voglio veramente bene ma bene da buono ti stringerei forte forte grazie ti voglio bene ti voglio bene hai indovinato tutto grazie 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 sono contenta sono felice sei contenta? si felice il formaggio questo è senza crozza me la mangio tutto io tranquillo la faccio su bene è tutto per la nonna lumigina grazie questa è la nonna che canta guardando il regalo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti